Salve a tutti e benvenuti a questo unboxing di Scrawlbox Ecco qua il pacchetto E' un po' rotto, si vede che questi acquarelli sono effettivamente troppo pesanti Ok, eccoci qua Per prima cosa troviamo un'etichetta, un adesivo Un riassunto dei materiali che troviamo dentro la scatola di questo mese Con dietro il tema del mese Space Mask Challenge del mese Space Mask Ok Apriamo Per prima cosa troviamo delle caramelle Arriba a tema Space Ok, troviamo un bianchetto Corret Express Tre tubetti di acquarelli di marca Van Gogh Vediamo se metto a fuoco Tre matizze acquarellabili Due pennelli, uno a punta fine e uno a punta più grandi Un'illustrazione A tema Space Mask E due foglie Per acquarelli Per acquarelli Per dire Materiali molto utili Tutti a tema acquarello Quindi per nulla dispersivi Anche se avrei preferito una penna gel bianca rispetto a un bianchetto Bene, questo è tutto Grazie per aver guardato questo unboxing Farò sicuramente qualcosa con questi materiali Qualche illustrazione che pubblicherò sui miei social E sulla mia pagina Patreon Di cui trovate il link sotto In più, questo unboxing potrebbe diventare la norma sul mio canale YouTube E sulla mia pagina Patreon Quando raggiungerò i 25 dollari al mese Che è più o meno quello che costa farsi spedire lo Scrawlbox in Italia Se questo video vi è interessato e vi interessa vedere questi materiali Vi suggerisco di diventare mio Patreon E aiutarmi a raggiungere questo goal Sarebbe molto interessante per me E spero anche per voi Grazie per avermi guardato Alla prossima Grazie a tutti